Con il sindaco di Gorla Maggiore e nell'area festa del comune è l'occasione di fare un po' il punto sul paese, come sta andando? Gorla Maggiore è un paese della provincia di Varese con poco più di 5.000 abitanti. È da 10 anni che Gorla Maggiore ha poco più di 5.000 abitanti e questo dà un po' l'idea di come si sta sviluppando il paese in questo momento. Uno sviluppo lento ma costante, che vuol dire il tentativo di mantenere una serie di servizi in maniera costante. Scuole adeguate, una nuova area feste che è quella in cui siamo adesso, un centro di orno in cui ci sono i nostri anziani e gli anziani dei paesi limitrofi e una grande quantità di associazioni sportive, culturali e per il tempo libero. La protezione civile, tante persone che si danno da fare per il paese. Gli amministratori cercano di tenere la situazione in ordine, questo è un po' il compito che abbiamo. In questo momento si fa fatica, da qualunque parte si guarda, si leggono i giornali, si parla sempre e solo di difficoltà economiche. Le viviamo anche noi tutti i giorni, cerchiamo di mantenere la rotta, cerchiamo di capire che al primo posto c'è sempre l'attenzione per chi abita nel paese e cerchiamo anche di capire che in questo momento bisogna riuscire a trovare le risorse per dare una mano a chi fa più fatica. Creando spazi, creando occasioni e cercando di mantenere anche le prospettive per il lavoro. È stata fatta parecchi anni fa una zona industriale che è in espansione. Questa è una notizia importantissima. Le aziende arrivano, forse anche grazie a Pedemontana, di cui si può dire tutto quello che si vuole, ma stanno investendo nel paese e questo è importante.